Anteprima di Polifemo di venerdì 11 marzo, Delta TV, canale 78 del Digitale Terrestre, ore 21, una puntata quasi interamente dedicata alle problematiche del commercio di Taranto, con particolare riferimento alla situazione del borgo. Un'analisi che faremo con ConfCommercio in cui seguiranno una serie di denunce e una serie di proposte. Noi vogliamo che la nostra città attraverso il borgo, che dovrebbe essere il biglietto da visita, la cartolina d'ingresso della città, rinasca. Andiamo dunque a salutare gli ospiti che animeranno la serata a partire da Leonardo Giangrande, presidente di ConfCommercio Taranto e ancora Alberto Mosca, vicepresidente di ConfCommercio con Delegal Commercio, Salvatore Caffiero, presidente dei giovani imprenditori di ConfCommercio, Giovanni Geri, presidente di Federmoda, Marcello Perri, presidente della categoria Orafi e Gioiellieri di ConfCommercio appunto, e non poteva mancare l'amministrazione comunale rappresentata da Ernesto Oderi, che è consigliere di maggioranza e presidente della commissione bilancio e componente della commissione attività produttive. Dunque un'analisi a tutto tondo sulle problematiche del commercio ionico, del borgo in particolare. E allora non resta che metterci comodi in poltrona, canale 78 del Digitale Terrestre, Delta TV, Polifemo, l'informazione libera della città.